Buongiorno, oggi sarà un consiglio dei ministri molto importante perché arriveranno a conclusione tre temi su cui abbiamo lavorato in questi sei mesi. Il primo, le infrastrutture come pilastro strategico per la crescita e ci sarà un documento conclusivo di tutti i ministri dei 28 paesi a sostegno del piano Juncker e con la sottolineatura che gli investimenti in infrastrutture sono fondamentali nella realizzazione dei core network delle TNT. Il secondo punto si affronterà il quarto pacchetto ferroviario, ci sarà un'approvazione riguardo alle linee guida sul pilastro politico e andremo avanti sul pilastro tecnico e infine dovremo arrivare a una determinazione sul cielo unico europeo con un orientamento generale sui grandi temi che sono fondamentali in questo periodo della sicurezza e dell'apertura al mercato. Grazie. Grazie.